Le difficoltà che sta vivendo il Comune di Mascali, sciolto il 27 marzo del 2013 per infiltrazioni mafiose su decisione del Consiglio dei Ministri, emergono dall'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città, tra la Commissione regionale antimafia, la Commissione straordinaria del Comune e i rappresentanti delle istituzioni militari, civili, delle associazioni e delle organizzazioni di categoria. Nella fase pubblica della riunione si è discusso delle criticità riguardo al compito svolto dai commissari. Il Vice Prefetto Giuseppe Piacentino, dopo aver ringraziato il Presidente Musumeci perché la sua visita, ha detto, ci dà la speranza che lo Stato è presente, ha parlato dei limiti dell'assetto normativo che disciplina la gestione dei comuni commissariati. Innanzitutto sui tempi di azione, un anno e mezzo non basta risolvere le problematiche, perché queste spesso derivano da situazioni pregresse radicate per le quali occorre intervenire con un lavoro capillare su più fronti. Inoltre, ha sottolineato Piacentino, durante il suo intervento, i commissari dovrebbero essere destinati a tempo pieno e con poteri straordinari rispetto ad esempio all'attuazione di progetti che riguardano le opere pubbliche e il loro appalto. Il nostro lavoro, continua Piacentino, deve fare i conti con i tempi della burocrazia, tempi troppo lunghi che ingolfano il percorso di risanamento e rallentano le risposte che siamo chiamati a dare alla collettività. E proprio sul rapporto con i cittadini, tabù nei comuni commissariati, il Vice Prefetto ha dichiarato di aver superato il momento iniziale di chiusura e che la Commissione ha aperto un dialogo con associazioni e rappresentanti delle istituzioni. In tema di bilancio, i conti sono in ordine, ha infine concluso Piacentino. Ma all'incontro, oltre ai limiti legislativi, sono emersi altri aspetti che in prospettiva rendono vulnerabile il Comune di Mascali. Il Presidente Musumeci ha sottolineato che manca una classe dirigente politica giovane che possa essere il motore per una corretta ripartenza, significativa inoltre l'assenza di associazioni anti-racket. Dopo l'incontro pubblico, la Commissione Antimafia e quella straordinaria si sono riunite in un incontro privato anche per valutare i parametri riservati che faranno decidere sull'eventuale e possibile proroga del commissariamento.